Oh santa pace, non ci credo che sto per farlo davvero. E non fatevi ingannare, sono tutt'altro che presa bene. Ma comunque, bentrovati su Watchmoji Italia, dove oggi, sì, non vi state sbagliando, sveleremo per più o meno filo e per più o meno segno tutta la storia tra Johnny Depp e Amber Heard, dall'inizio alla fine. Sì, è vero, sarà una follia. Il caso non è ancora chiuso, ma ormai qualche informazione, per così dire, è trapelata alla stampa e sembra che tutti siano improvvisamente diventati avvocati, esperti di diritto o di parità di genere. La storia è complicata e terribile, coinvolge la coppia, ma anche i figli di Johnny, parenti, amici, collaboratori, consulenti, studi produttivi, fanbase, imprenditori di enorme successo e patrimonio. Quindi, come dire, un po' di chiarezza non può che fare bene. Che poi, ora, piccolo excursus, alla fine sono anche cavolacci loro. Oppure io ho la mia vita e se sto registrando sta storia il primo maggio un motivo ci sarà. No? Dunque, voi statemi dietro che qui con il cervello in pappa ci sono già io. Un amore vorticoso. Johnny Depp III e Amber Heard si conoscono per la prima volta all'inizio delle riprese di The Ram Diary, uno pseudo prequel di paura e delirio a Las Vegas, dove Johnny riprende il suo ruolo originario di alter ego dello scrittore Hunter S. Thompson, che era l'autore dei libri da cui sono tratti i film. Era il 2009, entrambi erano felicemente impegnati con le loro partner, Johnny con la storica Vanessa Peredy, che è anche la madre dei suoi due figli, e Amber con la fotografa Tasia Van Rie. Quando nel 2012 entrambe le coppie scoppiano, Johnny dopo addirittura 14 anni, i pettegolezzi sui due attori assieme cominciarono a rincorrersi come un gatto in calore con la sua coda e non ci volle molto perché i due, tormentati dai paparazzi, alla fine confermassero la liaison. Tuttavia, la loro prima uscita ufficiale non si ebbe prima dell'11 gennaio 2014, quindi quasi due anni dopo, precisamente al settimo Annual Heaven Gala di The Art of Elysium, che sostanzialmente è una fondazione per artisti. E pochissimi giorni dopo, Amber viene addirittura fotografata con indosso quello che sembrava a tutti gli effetti un anello di fidanzamento. Immagino che non fosse di quelli che trovi nelle patatine, ecco. Hurd disse di ritenersi uno spirito libero, ma che dopo il sudalizio artistico aveva costruito con Johnny un rapporto fortissimo. Infatti, come giustamente scritto dai rotocalchi, i due si scambiarono i voti inuziali il 3 febbraio 2015 a casa della madre di Depp, che in quel momento non stava per niente bene. La coppia ufficializzò poi l'unione due giorni dopo, con una cerimonia privata sull'isola privata di Depp alle Bahamas. Mica male. Il divorzio e le accuse. Ovviamente la stampa ti segue quando sei single, quando ti sposi eppure dopo che ti sposi, ma quel che i tabloidi riportavano non erano notizie di nozze felici e spensierate. Anzi, l'aria di crisi era più palpabile della tensione tra Germania e Inghilterra nel 1939, quindi fade voi. La coppia era già finita in mezzo alle polemiche, tra l'altro, nemmeno molto tempo prima, quando avvenne una cosa che io francamente continuo a reputare bizzarra e di cui avevamo parlato anche qui in alto a destra, ovvero lo Yorkshire Gate, che nello specifico vedeva i due coniugi, in quel momento in Australia per le riprese dell'ultimo Pirati dei Caraibi, sotto accusa per aver introdotto nel paese sul loro jet privato i due cagnolini dell'attrice, Pistole Boo, senza tuttavia dichiararli. E sapete che gli australiani ci tengono, che ad uccidervi o mordervi siano solo gli animali endemici, quindi polemiche a manetta, e il prospetto di dieci anni in galera per Amber Heard. Insomma, una roba grave per il governo, che però alla fine, per la decisione di un giudice, annullò qualsiasi condanna in cambio di scuse pubbliche, che arrivarono, e già lì, in quel video, si poteva notare come entrambi sembrassero sia su un altro pianeta rispetto all'Australia, che secondo me anche tra loro due. Il video in questione, rilasciato nel 2016, divenne virale, perché i due davvero fecero una figura patetica. Rispettate la legge in Australia, mi raccomando, eh. Gli credettero tutti, proprio sicuro. Comunque, miei scleri a parte, ma siamo solo a metà, quindi aspettatevi di molto peggio. Nel maggio 2016, solo poco dopo la morte della mamma di Johnny, con il quale l'attore era molto legato, la Heard chiese il divorzio per differenze inconciliabili. Quali fossero nello specifico, lo avremmo tutti scoperto nostro malgrado qualche anno dopo. La Heard, però, caricò il piatto con la richiesta di un ordine restrittivo verso l'attore, poiché tra le accuse c'era quella di abusi domestici. Amber aveva infatti riferito che il marito la tormentasse fisicamente, psicologicamente, continuamente, ogni giorno, senza sosta, durante i loro 15 mesi di matrimonio, e che Depp fosse sempre ubriachissimo o strafatto. Cosa quest'ultima su cui in realtà non avevo dubbi, ma solo perché la tempra di Johnny per le sostanze era nota da sempre. Sulle accuse di violenze, la stampa ci andò a nozze, definendo Depp come un molestatore di donne, un violento, mentre i fan si divisero, ed ovviamente, avendo Johnny molto più seguito, furono e sono di più quelli che reputano Amber una vipera a raffasoldi. Quale che fosse la verità, l'ordine restrittivo venne attuato, salvo essere annullato quando l'attrice ritirò la richiesta. Nell'agosto 2016, la coppia raggiunse un accordo, per il quale Johnny avrebbe dovuto dare 7 milioni di dollari ad Amber, che promise, e qui mi faccio grasse risate per questa cosa in particolare, che le avrebbe donati in beneficenza. Il divorzio fu poi ufficialmente sancito nel gennaio 2017. Sembrava tutto finito, no? Sbagliatissimo, vi furono ovviamente, come da tradizione disagiata, gli strascichi legali. E qui il cervello comincerà a fondersi anche a voi. Io lo sto già raccogliendo da terra con una cannuccia. 18 dicembre 2018, dopo alcuni mesi di apparente calma, che è quella che per antonomasia precede la tempesta, ovviamente, il Washington Post pubblicò una lettera autografa di Amber Heard, in cui raccontava dettagliatamente, per filo e per segno, per spaccare il capello, cercando il pelo nell'uopo. L'ho specificato bene perché è molto molto metodica in questo. La sua esperienza matrimoniale e ovviamente tutti i violenti retroscena, le molestie, le litigate, le mani addosso. E disse che dopo la sua denuncia, il comportamento del partner era solo che peggiorato. La cosa bella era che, ovviamente, in tutta la lettera, il nome di Johnny Depp non appariva, ma non è che potesse parlare di qualche altro matrimonio che non avesse vissuto, no? Dunque, la stampa capì subito a chi si stava riferendo e gettò ulteriore benzina sul fuoco, sposando appieno la tesi di Heard. Le conseguenze per Depp furono praticamente immediate. Tempo mezza giornata e la Disney aveva già detto addio a Jack Sparrow, dichiarando, per sommo dispiacere dei fan, che Depp non sarebbe mai più apparso nella saga. Il 27 aprile dello stesso anno, poi, la vera dichiarazione di guerra, l'omicidio di Sarajevo nel mondo dello showbiz, ovvero l'infausto articolo sul The Sun, che partiva dal fatto che J.K. Rowling, non ne parlerò più, vi giuro che se no facciamo notte davvero, stesse ancora supportando il ruolo di Depp nei panni del suo Gellert Grindelwald. Ma riproponeva anche le accuse della Heard e le sposava a pieno, cosa che Depp non gradì affatto e infatti denunciò il giornale per diffamazione. In seguito, siamo a febbraio 2019, l'attore denunciò anche l'ex moglie, sempre per lo stesso reato, diffamazione a mezzo stampa e chiedendo 50 milioni di dollari di risarcimento per la perdita del contratto con Disney. Depp rifiutava totalmente le accuse, asserendo anzi che fosse la Heard quella violenta e, come a briscola con il nonno, lanciò un tre di danari accusando l'ex moglie di averlo tradito con James Franco, attore che ormai sappiamo avere qualche problema di sessodipendenza, sul set del film The Adderall Diaries, datato 2015. E anche con Elon Musk, quell'Elon Musk lì, con cui effettivamente l'attrice cominciò a frequentarsi, ufficialmente, almeno a partire dal 2017, come l'ha prese Amber, ma ovviamente controdenunciando il marito per 100 milioni, addirittura cancellandosi da Instagram, sostenendo che lei, nel suo articolo, aveva solo parlato della condizione sottomessa della donna nel mondo di oggi, nulla di più, e che Johnny Depp non venisse mai, 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 mai nominato. E a quel punto non si cominciò a capire più niente. Letteralmente, nessuno ci capì più niente, ci fu una corsa frenetica allo scoop, fan inferociti che si scontravano come ultras allo stadio, chiunque voleva saperne di più, e anche qualche nodo cominciò a venire al pettine. Quindi torniamo brevemente a marzo 2015, a quel famoso periodo in Australia. Disney dichiarò che le riprese per la vendetta di Salazar avevano subito un ritardo a causa di un infortunio alla mano di Johnny, che si era procurato proprio sul set. Ma questa era la versione Disney, edulcurata, come al solito. Non la presunta verità dell'attore, che invece, in giorni più che sospetti, e parlo ovviamente degli ultimi eventi, specificò che quel taglio sul dito era stato causato dall'ormai infausta bottiglia che Amber gli avrebbe tirato durante un litigio. Ma Amber, quanti, ma che ci sono? Lo so, non è colpa mia, eh, se questi due si odiano, sostenne invece che fosse una calunnia e che si fosse tagliato il dito da solo. Quando poi il Daily Mail rilasciò a gennaio 2020 un audio leak della coppia, e in quell'audio Amber confermava di aver colpito Depp in un precedente litigio, la bomba esplose definitivamente, scatenando un putiferio, che poi è quello che sta stampa ci sta facendo vivere ancora adesso. Conseguenze su vita privata e carriera. Arriviamo alle note più tristi per il fandom. In realtà, lo ripeto, tutta sta storia è di una tristezza berrante, ma chi ha perso il suo personaggio preferito ha anche il diritto di incavolarsi. Comunque, novembre 2020, un giudice inglese si esprime in favore del newsgroup newspaper che stampa il The Sun, affermando che non vi fosse diffamazione perché le accuse all'attore si erano rivelate sostanzialmente veritiere, che poi vuol dire un po' tutto e un po' niente. La picchiata, ma pian pianino, era un pazzo furioso ma le diede 7 milioni per chiudere la storia? Boh, non ho mai capito quella causa, ma ormai la storia era ufficiale. Johnny era quindi ufficialmente un molestatore e un violento per parte della stampa mondiale. L'attore rassegnò le dimissioni dalla saga di animali fantastici su insistentissimo consiglio della casa madre, la Warner, che lo scaricò senza appello e lo sostituì con Mads Mikkelsen, che per inciso per me è pure meglio come resa di Grindelwald, ma ne parleremo un'altra volta. Ora, qualcuno provò a chiedere alla Warner un trattamento, come dire, più eco? Non lo so, non mi sembra il termine appropriato. Comunque, partì una gigagalattica petizione su Change.org affinché la Warner cacciasse anche Amber Heard dal suo ruolo in Aquaman 2. La petizione raggiunse quasi 2 milioni di firmatari, ma la Warner non ci pensò nemmeno e infatti la richiamò nel sequel. Amber, tra l'altro, in quella famosa lettera al Washington Post, aveva anche specificato che dai tempi del divorzio in poi anche lei aveva perso dei ruoli e che addirittura fosse stata sostituita in un film. Di cui, però, non sono riuscita a trovare informazioni, perché se scrivete Amber Heard e Recast, l'unica roba che viene fuori è la storia di Aquaman e la petizione. Comunque, che sia vero o no, effettivamente Amber dal 2018 ha interpretato pochissima roba, tra cui film Warner e la miniserie The Stand, tratta, credo, dall'ombra dello scorpione di Stephen King. Piccolo spazio felicità, il primo luglio 2021 Amber annuncia la nascita della sua prima figlia, nata in realtà l'8 aprile da madre surrogata. Fine piccolo spazio felicità. E prima di continuare questo massacro che vi giuro, non so se potrò continuare a sprolocchiare come sto facendo da... da quanto stiamo andando avanti. Mi fate felice almeno voi, vi prego, cliccate la campanella degli avvisi e approfinguiamoci dunque ai giorni nostri in cui si sta tenendo la resa dei conti. Depp vs Heard. Il processo del secolo probabilmente... Oddio, io non ci scommetterei, ma vedremo per quanto ancora sto disagio ci asfalterà i media. Comunque, quattro anni dopo la causa, finalmente, l'11 aprile del 2022, l'altro ieri insomma, il processo ha inizio presso la corte di Fairfax Country, in Virginia, dove tra l'altro c'è uno dei centri di stampa del Washington Post. Ma pare che questa scelta di location sia da ricondurre a un'idea del team legale di Johnny Depp, che intendeva eludere la famigerata legge anti-slap, che di fatto tutela coloro che si espongono in denunce dall'essere messi a tacere da costose cause legali. In realtà, questa legge è attiva anche in Virginia, ma lì non permette alla difesa di fermare il procedimento. Dunque, il processo, che in 15 giorni ho seguito in gran parte in diretta, ma solo perché sapevo che avrei dovuto parlarne, ho una vita anche io, e che posso garantirvi disponibile in streaming ovunque, in qualsiasi sito web, in pratica, e devo dire che un processo è sempre un processo. Però sapere che tra i testimoni, oltre a collaboratori e consulenti delle due parti in causa, ci sono anche persone del calibro di James Franco, Paul Bettany e pure lo stesso Elon Musk, beh, diciamo che qualche curiosità me la riesce a suscitare. Ecco, non sarà la puntata di un giorno in pretura sul mostro di Firenze, che quello, vabbè, è leggendario, però i riflettori sono tutti puntati lì. In quelle sessioni che ho seguito, sono stati rivelati di quegli scheletri nell'armadio che hanno dovuto chiudere le catacombe dei cappuccini di Palermo perché erano rimaste vuote. Nell'arco di poche settimane sono state presentate decine di prove tra video, foto e audio. Cosa ci ha capito? Non ha importanza. Quel che mi sento di dire è che dalle carte e dalle testimonianze sono venuti fuori i trascorsi infantili di traumi che accompagnano i due ex coniugi oggi contendenti e che forse è quello che da entrambe le parti ha fatto mantenere una relazione tossica di quel livello. Non che questo racconti la verità, quella la definirà al giudice ma almeno abbiamo messo in chiaro un paio di cose. Allora siete ancora vivi? Io devo controllare di avere ancora i lobby frontali e le corde vocali ma vorrei sapere come la pensate quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti senza insulti per nessuno per favore mi raccomando fate i bravi e io sono talmente stanca che probabilmente mi infilerò lo spazzolino da denti negli occhi quindi al prossimo video direi che non ci vediamo.